i toni secondo voi? Ma sono i toni il problema o la realtà di quello che è successo negli ultimi mesi? Io le chiedo e chiedo anche a chi ci sta seguendo, che fine ha fatto Enrico Letta? Che fine ha fatto Monti? Io mi ricordo che i primi giorni quando ci hanno presentato il presidente del consiglio Letta sembrava fosse arrivato il salvatore della patria, la faccia bella, il linguaggio sofisticato che serviva a risolvere tutti i problemi, poi però probabilmente non ha rispettato alcuni patti con dei poteri finanziari e il proprio partito il suo partito, il PD e i poteri finanziari stessi l'hanno destituito. Stessa identica situazione con Monti, un altro non eletto che era stato messo lì, sembrava fosse arrivato il tecnocrata, il professore che doveva risolvere tutti i problemi dell'Italia, poi in realtà ha solo portato dei vincoli a livello europeo e ci ha distrutto ancora un po'. La stessa identica questione come vedete è quella di Renzi, un altro personaggio non eletto che è stato messo lì, una faccia magari un po' meno pulita rispetto a Letta e un linguaggio un po' più giovanile, ma in realtà la questione è sempre la stessa, messo lì da altri, dai poteri forti, da un sistema europeo che delinque finanziariamente e probabilmente non rispetterà il volere delle politiche finanziarie, non ne sarà capace perché noi vinceremo alle europee e quindi sarà rimosso ed istituito dal suo posto e la dimostrazione l'abbiamo vista ai primi giorni del governo Renzi, qual è stata la prima cosa che ha fatto? è andato a fare ginoflessione dalla Merkel dicendo che avrebbe rispettato tutti i diktat europei e poi viene in Italia a raccontare altre cose che sono completamente inesatte e false, questa è la dimostrazione di tutto quello che stiamo dicendo.